prima volta l'all weather vedremo come si comporterà intanto è tutto pronto partiti cavalli del premio santanita la condizionata di giornata vediamo subito l'aspetto tattico yuk parte bene parte bene anche gaduli dell'alguerra che si porta subito in evidenza la terza posizione è quella per sir marley in corsia esterna in quarta troviamo la giuba blu con il cap giallo del favorito il sindacalista che lascia in quinta posizione ask my gloria a chiudere il quadro c'è fighting king si procede così piuttosto speditamente con gaduli dell'alguerra ancora in vantaggio nei confronti di yuk e poi sir marley che gravita in terza corsia in quarta posizione troviamo ask my gloria ancora il sindacalista in quinta posizione a chiudere il gruppo a distanza di 4 5 lunghezze troviamo lo stesso fighting king siamo addirittura d'arrivo con gaduli dell'alguerra sempre con il suo passo in vantaggio nei confronti di yuk e si presenta anche lo stesso sir marley fighting king deve trovare ancora invece lo spazio il sindacalista c'è il ventaglione che vede almeno tutti i cavalli lontani l'uno dall'altro c'è in vantaggio gaduli dell'alguerra che è comunque un po stanco il sindacalista si è finalmente messo sulle gambe al paletto dei 200 passa in netto vantaggio il sindacalista nei confronti di gaduli ci prova yuk e all'esterno di tutti ma il sindacalista ha preso il tempo a tutti in questa fase viene a vincere da favorito facilmente nei confronti di yuk e poi ancora gaduli dell'alguerra favorito assegno una bella conferma per il sindacalista che sulle prime era stato messo un po in difficoltà ma poi ha fatto valere tutta la qualità di cui ha proprietà vince il numero 5 dello schieramento quarta affermazione in carriera per il figlio di bungle in the jungle carlo fiocchi in sella trading di sebastiano guerrieri i colori sono quelli di vittorio giovanni vitale vince il 5 glasses off per carlo fiocchi ancora prima di passare il traguardo secondo posto per yuki che ha dimostrato un'ottima forma recentemente al terzo posto il front runner quello che ha garantito un bel ritmo gaduli dell'alguerra quindi numericamente 5 al primo 7 al secondo 4 al terzo è tutto per la seconda da capanelle grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti